Oggi IPEA ha un accreditamento sospeso perché è in via di verifica. La notizia di quelle fresche e di più freschissime, la scuola professionale di acconciatore di estetica IPEA da oggi sospesa dalla regione. Notizia presa dai rappresentanti dei genitori delle classi quarti di Treviso con soddisfazione e al contempo sgomento. Visto che IPEA è stata sospesa lunedì, in che scuola andranno gli studenti, chi sarà nei loro nuovi professori si domandano. La preoccupazione è che adesso, visto che l'ente IPEA è stato sospeso, sinceramente noi genitori e ragazzi non sappiamo più adesso lunedì dove andiamo. Da lunedì per le quarte dunque lezioni sospese dopo mesi di calvario su presunte irregolarità della citata scuola, non ultime proprio quelle denunciate dalle famiglie degli stessi studenti. Visto che su 16 ore ne hanno fatte due, dichiarate dalle ragazze con video, con dichiarazioni fatte su fogli, firmati, sinceramente adesso non sappiamo più. Senza scuola, senza docenti e senza aule, la paura e il timore dei ragazzi e dei genitori che le quarte non riescano a completare l'anno scolastico. In questo caso l'ente IPEA ha diverse sbavature, noi stiamo controllando che tutto sia regolare ma garantiamo ai ragazzi che ci sarà sicuramente per loro una opportunità di buona formazione. L'appello dei genitori alla regione. Confido adesso che l'assessore Donazzan ci dia la possibilità di incontrarci. Quindi la rassicurazione dell'assessore di reparto. Sono al loro fianco però di famiglie, degli studenti principalmente perché noi come regione guardiamo al bene di quei ragazzi.